Via! Quando si facciano i ricotti, si facciano arruano, a parciali, a parciali. Dua nuova che è stata spostata. Sì. Quando io ero a Tiziana, appena presto, aveva una sala che faccia facciare ricotti. E già ho il cucciolo, quando ho montato la cucciola piegata, no? E me la mangiava, due o tre cuccioli. Ma che aveva di essere una purga? Ma come la faceva? Eh, c'era il latte. Avevo il latte. Siccome non siamo, ci mettono un guaggio. Un guaggio? Ah. Il caglio, no? Allora ci mettono lo ramo e ricotta. Ah, ah, questa è una chicca. E' una chicca. Così mi chiedevi a voi stesso. Chi sa quanto mi ricorda così, grossolanamente? Ma vediamo se qualcuno su internet... Viene a incontrare. Viene a buon. Viene a buon. Viene a buon. E' una cordana, a poco lento. Come quando cagli? Come quando cagli? Ah. Dovevo bollire piano piano. Questa è negli anni? 50. Ah, ok. Pochi da un piccio aggiunente? Ecco, io ho 63.000 euro. Poi magari non faccio neanche il ciugno. Boh.